TG con il maltempo Un'allerta meteo arancione La quale allerta meteo ha interessato maggiormente Avellino e provincia Di fatti per l'occorrenza abbiamo delle immagini Le quali ci mostrano come durante la notte appena trascorsa I vigili del fuoco di Avellino sono stati impegnati in circa 40 interventi Per il forte maltempo che ha accorpito Rilpinia I forti in un bifraggi hanno provocato degli allagamenti Ed anche infiltrazioni d'acqua nelle abitazioni Ed il lavoro sta continuando tuttora per permettere un ripristino della viabilità I vigili del fuoco di Avellino sono stati supportati anche Da un distaccamento di nola del comando di Napoli Rimaniamo sempre ad Avellino mentre le immagini scorrono Di fatti questa mattina Piazza Kennedy si è svegliata completamente allagata Enormi disagi alla cittadinanza I quali cittadini hanno dovuto fare i conti con il forte nubifraggio Che si è abbattuto ieri su gran parte dell'Irpinia I pullman come appunto stiamo vedendo dalle immagini in questo momento Hanno avuto non pochi problemi a garantire il servizio ai numerosi viaggiatori E hanno avuto appunto problemi sulla circolazione Che è stata completamente bloccata per diverse ore In Irpinia il fiume Calore è esondato in diversi punti Provocando numerosi danni ai terreni vicini Rimaniamo sempre in alta Irpinia Soprattutto verso il lago Laceno Dove appunto con l'arrivo del freddo sono caduti i primi fiocchi di neve Candore e suggestione l'hanno fatta da padrona Soprattutto per l'ingresso della Dama Bianca Purtroppo anche quest'anno però i turisti e i numerosi sciatori Non potranno usufruire delle stazioni sciistiche In quanto si sta aspettando ancora quello che è la riqualificazione dell'intero comprensorio Ci spostiamo verso la provincia di Avellino Di fatti per la manutenzione delle strade provinciali Il presidente Biancardi ha delle importanti novità sulle giornate lavorative OTD Vediamo il servizio Una riunione abbiamo fatto con i presidenti della comunità montana della provincia di Avellino Dove noi abbiamo come provincia una manutenzione stradale Sui circa 1600 chilometri di rete che noi abbiamo stradale Su questo noi abbiamo una manutenzione che la provincia dà in appalto E invece io ho avuto l'idea di convocare i presidenti della comunità montana Per avere con loro una convenzione con la manutenzione di queste strade Dove noi ovviamente verseremo una quota di partecipazione Che potrà ovviamente garantire agli operai delle comunità montane Una serenità tale da poter garantire le giornate lavorative degli OTD E quindi anche per quanto riguarda la provincia possiamo garantire la manutenzione Siamo nel mandamento baianese per l'esattezza a Mugnano del Cardinale Dove a conclusione di attività condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Avellino Sono state deferite alla competente autorità giudiziaria 5 persone Ritenute responsabili della realizzazione di opere edilizie abusive in assenza di doni titoli autorizzativi A carico di 5 soggetti è dunque scattata la denuncia In stato di libertà alla procura della Repubblica di Avellino Rimaniamo ancora a Mugnano del Cardinale Dove abbiamo un servizio sull'abbandono della villa comunale La nostra attenzione torna sullo stato di abbandono e degrado In cui si trova la villa comunale di Mugnano del Cardinale Erbacce, rifiuti abbandonati e soprattutto l'inaccessibilità Sono questi problemi principali La chiusura infatti con Lucchetti rende inaccessibile l'entrata ai visitatori E non è certamente la soluzione idonea per scrollarsi di dossa di un problema La velletta rappresenta per i mugnanesi un polmone verde lontano dalla viabilità cittadina E quindi garantirebbe soprattutto per i più giovani un luogo sicuro e protetto Anche se in passato non sono mancati eventi spiacevoli Ma nonostante gli inconvenienti questo angolo posto nel centro del paese Potrebbe essere, una volta messa a lustro, un buon punto d'incontro per giovani e meno giovani La neoamministrazione comunale retta dal neosindaco dottor Alessandro Napolitano Dovrebbe quindi dare un'accelerata al programma elettorale Che pur la vedeva tra le opere da salvaguardare Restituendo così ai mugnanesi questo angolo di paradiso Siamo su Sperone Ieri vi abbiamo parlato della possibilità che l'anno prossimo la scuola primaria potesse adottare la settimana corta Questa è stata comunque un'iniziativa ben accolta dai genitori Però ha voluto dire la sua anche il dirigente scolastico Vincenzo Serpico Il quale appunto ha tenuto a precisare che per amore della verità All'istituto Giovanni XXIII è stato indetto un referendum Nei giorni del 18 e 19 novembre scorso Sono stati chiamati a votare i genitori Però egli tiene a sottolineare che non hanno votato neppure il 50% degli aventi diritto E che comunque per parere favorevole espresso a maggioranza risicata E dei soli 17 voti in più I docenti non sono stati impegnati in questo referendum E che comunque al di là del parere espresso Che può avere un relativo peso a livello scolastico La delibera eventuale dell'organizzazione diversa dall'orario scolastico Non solo per il plesso delle primarie di Sperone Ma tutto l'istituto comprensivo Tiene per l'appunto a sottolineare che al momento non è stata presa alcuna decisione in materia Ci spostiamo verso Sirignano Sempre nel mandamento baianese Dove per l'appunto il servizio di Felice Siniscalchi Ci parlerà di quelle che sono le iniziative del Natale Prossimi al Natale Oggi ci troviamo a Sirignano Con il sindaco Raffaele Colucci Che ci spiega le iniziative di questo Natale Beh, diciamo che da venerdì inizia la cosiddetta Sagra del Natale Piccirillo Che è una manifestazione che dura qui a Sirignano da oltre 100 anni Negli ultimi 10 anni è stata trasformata anche in Sagra Ed è stata un'ottima iniziativa della Prologo Sant'Andrea Perché consente di far conoscere non solo a Sirignano Ma anche ai paesi limitrovi Ma soprattutto in tutta la Campania Di questo paese che festeggia E' l'unico paese al mondo che festeggia in Natale due volte all'anno Tra l'altro è stato l'anno scorso anche oggetto del Tg itinerante di Rai 3 Mi fa piacere che c'è un grosso interesse per questa manifestazione E spero che anche quest'anno possa avere, tempo permettendo Una, come dire, un'ottima riuscita della manifestazione Inizia il 23, dura fino al 25 a pranzo Poi c'è stesso il 25, ci sta, come dire, la sfilata del Maio Il 29 c'è l'accensione del Falò Il 30, diciamo, c'è la processione in onore del Santo Patrono E' una manifestazione che sta crescendo E quindi approfitto per ringraziare di nuovo Tutti i direttivi della Prologo Sant'Andrea Che ha dato la possibilità di far conoscere questa iniziativa In tutta la regione Campania Ci saranno iniziative anche all'interno del Palazzo Caravita? All'interno del Palazzo Caravita Già dal 23 ci saranno i mercatini di Natale Poi l'8 dicembre ci sarà una nuova manifestazione Che durerà da 7, 8, 9 dicembre La casa di Babbo Natale Che consentirà a tutti i bambini di partecipare A questo evento diretto con Babbo Natale L'8 dicembre ci sarà il Gran Ballo di Dracula A cura di un'associazione culturale di Napoli Il 21, dal 20 al 22 Poi all'interno del castello ci sarà il Ballo delle Debuttanti E ci sarà l'elezione del Miss Regno delle Due Sicilie Quindi è un Natale pieno di manifestazioni Il 27 e 28 ci sarà il Presepe Vivente Dal 28 al 30 poi ci sarà la consueta recita Il consueto teatro a cura dell'associazione Insieme Persignano Quest'anno sarà un Natale ricco di sorprese Speriamo di trascorrerlo bene e senza l'odio dell'opposizione I fatti del giorno ci spostano verso il Vesuviano Con l'esattezza a San Giuseppe Vesuviano Dove i carabinieri della stazione di Palma Campania Hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare Emessa dal GIP di Nola Su richiesta della locale procura dopo indagini dell'arma Due ventenni sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Poggio Reale Con l'accusa di rapine e danni di altrettanti cittadini bengalesi In entrambi i casi i malfattori avevano avvicinato le vittime Ed in sella ad un ciclomotore dopo averle spinte e fatte cadere a terra Procurando contusioni per prognosi guaribili in 5 giorni Le avevano deportate di borselli contenenti denaro ed effetti personali Le indagini inoltre condotte, le varie persecuzioni Hanno riscontrato il sequestro di 47 cartucce di calibro 7,65 e due passamontagna Se il maltempo ha creato forti disagi sulla Vellinese Oggi a Napoli splendeva il sole Di fatti l'allerta arancione che ha fatto sì che le scuole fossero chiuse Nella giornata di oggi, martedì 20 novembre È stato un fatto alquanto discusso sul web Soprattutto dai genitori, non tanto dai ragazzini felici di perdere una giornata scolastica Di fatti è la terza volta che il sindaco Luigi De Magistris Ordina la chiusura delle scuole davanti all'allerta medio Lanciata dalla Protezione Civile Campania Dopo il temporale della notte Da questa mattina, dalle ore 7 Sulla città di Napoli splende il sole Passiamo allo sport, soprattutto il calcio Dove il San Vitaliano batte il Baiano quarto in classifica Di fatti nell'undicesima partita di campionato di promozione campana del Girone C Nel secondo tempo il San Vitaliano diventa più aggressivo E riesce a battere gli sportivi del Baiano per 1 a 0 Prima delle previsioni del meteo Volevo ricordarvi una lodevole iniziativa Promossa dal comune di Grotta Minarda Di fatti lunedì 26, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 Presso il presidio ASL di Via Flammia Sarà possibile per i proprietari di uno o più cani Applicare gratuitamente il microchip E di quindi inserirli nella gnagrafe canina I dati saranno poi riportati nella banca dati regionale e nazionale Ed ora le previsioni del meteo Le previsioni del meteo per mercoledì 21 novembre Vedono le temperature massime intorno ai 15 gradi Precipitazione intorno ai 10 gradi Umidità all'80% e venti a 16 km orari Al mattino vi è una sparsa nuvolosità variabile Accompagnate da piogge isolate e temperature minime in calo Ricordo ai nostri amici a casa che ci seguono sul web e sul piccolo schermo Che saremo in replica con il Tg di Bassirpigna Sui canali 810 e 616 di RTG Telegolfo Alle ore 7 del giorno dopo, quindi del 21 E alle ore 12 Il nostro telegiornale termina qui Non mi resta altro che augurarvi buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti